Inaugurate a Biceglie due collector, moderni e sofisticati dispositivi tecnologici per la rimozione di rifiuti di plastica del mare. I due apparati, installati nel porto di Biceglie, che prendono il nome da uno dei supereroi più amati della storia, sono in grado di aspirare rifiuti galleggianti e possono catturare fino a 100 kg di plastica e micropastica alla volta, oltre a filtrare gli idrocarburi in sospensione, contribuendo così a contrastare l'inquinamento nel mare. Ad inaugurarli il sindaco Angelo Antonio Angarano e l'amministratore unico di Biceglie a Prodi, Nicola Rutigliano, accompagnati da organizzatori e parte nel progetto interregionale Italia-Croazia Marles, insieme a studenti dell'istituto di istruzione secondaria superiore Leonardo Ravinci e Sergio Cosmai. Il porto di Biceglie è ormai un consolidato punto di riferimento non solo per i tanti e qualificati servizi che offre, ma anche per l'attenzione all'ambiente, ha sottolineato il sindaco Angarano. Un risultato eccezionale per il nostro porto che si conferma tra le eccellenze italiane nell'attenzione alla sostenibilità ambientale, alla tutela del mare e alla sensibilizzazione sul problema di plastica e micropastica disperse in acqua, ha commentato Nicola Rutigliano, amministratore unico di Biceglie a Prodi. L'inaugurazione ha di fatto aperto la rassegna incentrata sull'ambizioso progetto di cooperazione territoriale in corso da due anni e finalizzato dal programma interregionale Italia-Croazia intitolato MARLESS, acronimo di Marine Liter Cross Border Awareness and Innovation Actions, finalizzato a realizzare azioni diffuse che permettano di affrontare il fenomeno della plastica in mare. A chiude la manifestazione la liberazione di tartarughe marine con la collaborazione di Pasquale Salvemini, presidente del Centro Recupero Tartarughe Marine WWF Molfetta.